Ciao amici Occhiali da sole, porca troia, sono tornato Quindi parliamo di canzoni di Sanremo Che sono state miscagate Parliamo della canzone che si chiama Musica Leggerissima di Colapesce di Martino Sempre Sanremo 2021 ovviamente Una canzone che è stata un po' miscagata Adesso andiamo a vederne il testo e vediamo perché È una metacanzone di Sanremo Almeno secondo me è la mia analisi Oltre ad essere una canzone pop esistenzialista Con un ritornello forse un po' troppo neomelodico Cioè sembra un po' napoletano Nel ritornello, ecco quello non mi piace molto Nel senso avrei preferito magari una costruzione diversa Ma è perfetto per poi quello che vogliono andare a raccontare Quindi il testo e la musica si uniscono perfettamente Cioè quello che dice il testo La filosofia musicale del testo e la musica Sono perfette Andiamo a vedere perché è una canzone Con più piani di lettura E più idee alla base Filosofia musicale alla base Niente, andiamo subito al testo Allora, la canzone è scritta da entrambi E come dicevo prima È una sorta di, avete presente, concerto del primo maggio Delle storie tese Che è una canzone sul concerto del primo maggio Un po' parodistica in quel caso In questo caso hanno portato a Sanremo Una canzone che è molto su Sanremo E si vede già dalla prima Delle prime parole Perché ovviamente si parla di un'orchestra Cosa che a Sanremo è sempre presente Ma è anche una canzone pop esistenzialista Dove, come dicono poi i due autori Adesso poi è abbastanza criptico Forse significato sulla depressione Che volevano trasmetterci È difficile da analizzare Ma andiamo con ordine Allora Se fosse un'orchestra a parlare per noi Sarebbe più facile cantarsi un addio Ok, quindi primo riferimento certamente a Sanremo E al fatto che è una canzone scritta apposta Diventare adulti sarebbe un crescento di violini e guai Quindi prima volta in cui All'interno di questa canzone Si associa un po' all'esistenza Alla musica I tamburi Annunciano il temporale Il maestro è andato via Il maestro si intende Si può intendere ovviamente il maestro ad orchestra Ma secondo l'analisi poi dei due autori E l'idea dei due autori Il maestro è anche un po' il cervello C'è la parte più razionale Che controlla tutto il resto E il temporale quindi sono i momenti più bui E i problemi più Cocenti della nostra vita Quindi come facciamo a sfuggire a questi problemi Del crescere Del dover andare via Dover sfuggire a qualcosa Con la musica Ma in questo caso non musica impegnata Non Luigi Tenco per intenderci Non Gino Paoli Che sulla tristezza ci ha costruito un impero Ma un po' di musica leggera Che tra l'altro è perfetta per Sanremo Cioè la musica leggera è la classica canzone sanremese Perché ho voglia di niente Cioè una musica così Come per quanto riguarda i libri Sai i romanzi di evasione Cioè quelle robe che un po' ti portano via con la testa Eccetera eccetera Perché ho voglia di niente Anzi leggerissima Parole senza mistero Quindi non i baustelle Non Che ne so Non le canzoni più criptiche di De André Non le canzoni più criptiche di qualsiasi autore Ma quelle che Quelle canzoni che si capiscono immediatamente A una prima lettura Che tra l'altro fa ridere Perché questa canzone non è proprio Leggerissima In questo senso Nel senso ha più significati nascosti Parole senza mistero Allegre ma non troppo Ok Quel proprio quel Perfetto Connubio tra Se è troppo allegra E sono triste Non va bene Perché Insomma Non mi La sento come una dimensione Che non mi appartiene In questo momento Se è troppo triste Cioè La faccio finita immediatamente Quindi quel misto di Un po' allegro Ma poi lei se ne va Nel silenzio assordante Che sembra un po' La canzone di Massimo Ranieri Che poi non so se è sua Effettivamente Che è la voce del silenzio Non so Mi sembra una citazione Quella cosa lì Per non cadere dentro al buco nero Qua ovviamente Torniamo a parlare Dell'esistenza Della depressione Insomma Del Del mood triste Che sta un passo da noi Da noi Più o meno Sempre tra l'altro Un passo da noi Indipendentemente Dalla musica E da tutto quanto Ok qua si parla invece Di un concerto Quindi torniamo Alla situazione italiana Attuale Mondiale Attuale Post Anzi Durante Covid-19 Nella quale Non ci sono concerti Quindi loro Come ovviamente Autori del mondo Dello spettacolo Sono interessati Al problema Se bastasse Un concerto Per far nascere un fiore E quindi qua Si torna nella dimensione Di Come dire Del mondo Un po' così Che è senza Il contatto diretto Con i musicisti Ok Tra i palazzi distrutti Dalle bombe nemiche Questo forse può essere Un riferimento Diciamo alla situazione attuale Dove appunto Associato forse un po' Alla guerra Al covid Questo è un collegamento Che faccio io Ma non sono sicuro Nel nome di un dio Che non viene fuori Col temporale Qua Citazione Anche in questo caso Ditemi voi Che citazione in particolare Comunque sia Il maestro è sempre andato via Metti un po' Di musica leggera Cioè Si passa dal mood Sono triste Ammettiamo la musica Rimane in sottofondo Dentro ai supermercati La musica leggera Ovviamente E non so se avete presente Brian Nino Canzoni per Gli aeroporti O canzoni per Gli elevator Song Adesso non mi ricordo Come si chiama Quell'album lì Molto bello Che c'è su youtube Comunque sia Quindi easy listening Canzoni Che non ti danno Troppi pensieri La cantano Cioè queste canzoni Possono essere cantate Da tutti I soldati I figli alcolizzati I preti progressisti Non so Non so se qua Si riferiscono a qualcuno In particolare Adesso è difficile Immaginarsi un prete progressista Mentre di figli alcolizzati Ce ne sono molti La senti nei quartieri assolati Che rimbomba leggera Ok qua Dissonanza Tra una cosa che rimbomba E una cosa Leggera Una figura retorica Che si chiama Me lo direte voi Si annida dei pensieri In palestra Altro luogo Ecco però in verità In palestra Non c'è musica leggera Solitamente ma Tiene in piedi Una festa Anche di merda Cioè Anche qua forse È riferimento al covid Il fatto che non ci sono feste Cioè dice Vorrei andare a una festa Anche una festa di merda Potrebbe andare bene Comunque sia Ti permette di ripensare alla vita Alle cose che hai lasciato Ti fa cadere nello spazio Della tua indifferenza animale E poi finisce nuovamente Parlando di un baratro Quindi Una Canzone Effettivamente Non leggera Perché in verità Triste Che parla di Sanremo Che viene portata A Sanremo Ah tra l'altro Ho dimenticato che c'era un'altra 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 citazione a Sanremo Adesso l'ho persa Eccolo qua Ovviamente dicevamo Fiore Prima mi sono dimenticato di dirlo Fiore Sanremo la città dei fiori Quindi potrebbe essere Una citazione voluta Direi assolutamente di sì Niente Fatemi sapere se voi avete visto Invece altri Modi di Interpretare queste canzoni Fatemi sapere se vi piace Se non vi piace Se per voi è troppo napoletana Noi ci vediamo la prossima volta Ah ditemi sotto le cose Che vi ho chiesto Durante l'analisi Ciao Ciao